Pioneer XDJ RX3 finalmente con Serato DJ. Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude amanti di Serato DJ questo software che tanto vi piace e soprattutto amanti della Pioneer XDJ RX3 la tanto attesa compatibilità tra il popolare sistema DJ della Pioneer XDJ RX3 ed il software Serato DJ Pro è arrivata offrendo agli utenti e possessori di questa macchina un'altra bella opzione. Andiamo a vedere quali sono le novità e anche tutte quelle di Serato comprese quelle per Windows 11 perché ci sono un po' di problemini con questo software. Andiamo a vedere tutte le release notes. Pioneer XDJ RX3 adesso funziona con Serato DJ Pro sarete contenti no tutti voi? Prima di cominciare e andare a vedere tutte le novità e anche le release note per quello che riguarda i problemi con Windows 11 con alcune macchine perché molti di voi me lo hanno segnalato devo ricordarvi dei corsi per DJ, corsi per DJ e corsi di produzione musicale che potete fare tutti online con il sottoscritto tramite il sito corsidjeproducer.com contattandomi e compilando il form oppure tramite la pagina Facebook o la pagina Instagram che trovate ovunque contattantemi mi raccomando solo se volete fare corsi lezioni o consulenze private per tutto il resto ci sono i messaggi qua sotto per chi sono indicati i corsi per chi inizia da zero per chi è già bravo ma vuole migliorarsi perché oltre lì non riesce ad andare da solo si rende conto che ha un blocco e non riesce a spingersi oltre e per chi vuol fare il salto definitivo verso il professionismo idem per le consulenze su tutti i vostri problemi hardware software e soprattutto le cose burocratiche che tanto vi attanagliano la mente ricordandovi che i corsi sono tutti fatti dal sottoscritto in diretta senza alcun video senza alcuna dispensa niente di registrato tutto di ghigna personale io e te anyway andiamo a vedere tutto ciò che vi interessa e la tanto attesa compatibilità tra il popolare sistema xdj rx3 di pioneer dj e il software serato dj pro con la versione odierna cioè la pro 2 5 1 1 il supporto della pioneer xdj rx3 è ufficiale o un nativo come si suol dire e dj si possono scaricare o aggiornare serato per utilizzare immediatamente l'aggiornamento xdj rx3 infatti sbloccherà serato automaticamente al momento del collegamento della macchina e da adesso il controllo xdj rx3 potrà mostrare le forme d'onda in movimento di serato sullo schermo ad alta risoluzione ad un frame rate molto elevato e così serato sfrutta anche i display color on jog cioè quelli al centro del brutto segno fatto quelli al centro delle jog che vedete qua dietro di me al centro delle jog wheel gli utenti potranno sfruttare tutte le funzionalità come gli effetti integrati della xdj rx3 insieme alla potenza delle funzioni di serato dove si può scaricare tutto questo è possibile farlo tramite il sito ufficiale e dove potrete scaricare serato dj pro metterò tutto in descrizione andiamo a leggerci un po di cose serato dj pro 2.5.1 è uscita adesso e porta supporto per la pioneer dj xdj rx3 ma non solo che anche qua riassume quello che ho appena detto che ci sarà il supporto per la xdj rx3 per il suo touchscreen di 10.1 ed un professional layout sblocca serato dj pro con semplicemente il collegamento plug and play e si potranno vedere le waveform ad alta risoluzione ma anche l'audio in streaming con tidal o tidal hi fi come viene detto lossless e coloro che sono iscritti a tidal hi fi adesso possono streamare l'audio senza la perdita di qualità i recenti aggiornamenti come il supporto della pioneer dj dj rv 7 che già insomma c'era dj rv 1 il mac os monteray support il windows 11 support attenzione questo andiamo a vederlo adesso nel dettaglio e l'aggiornamento dei drivers per i pioneer dj hardware oltre al supporto dell'ammiraglia dei lettori pioneer dj cioè icdj 3000 questa è la versione da dove potrete scaricare con il vostro account e andiamo a vedere le release note per quel che riguarda windows 11 che adesso è supportato da serato dj pro e serato dj lite con la maggior parte di color primary hardware compatibilità quindi windows 11 è uscito e molti clienti di windows 10 adesso possono fare un upgrade gratuito ma noi abbiamo completato i test con windows 11 per serato dj pro e serato dj lite e windows 11 supportato a partire dalla serato dj pro 2.5.7 dalla dj lite 1.5.7 ma prima di aggiornare a windows 11 prendere nota se il tuo hardware supportato oppure vedere se ancora è in lavorazione e questa è la lista degli hardware supportati con windows 11 si assicurano di scaricare gli ultimi driver l'ultima versione di serato software ed ecco qua a partire dalla cai tutti i denoni da compresa anche la dj prime 4 l'ix i 1850 i gemini gli hercules i mixers hardware tutti i numer che vedete tantissimi ed ecco qua i pioneer dj hardware che interesserà a molti che hanno windows 11 tutta la bella lista di hardware supportati gli hardware rain della reloop roland il vestax in prova c'è ancora la leninite x1 43 c che alcuni ci avevano segnalato il reloop rmx 90 dvs e tutto qua quelli ancora non supportati tutto questo ve lo metto in descrizione quindi amanti di serato e amanti e possessori della xdj rx3 ecco qua serato dj pro 2.5.11 potete andare a scaricare ma prima di andare a scaricare controllate il system requirement cioè se il vostro sistema è adatto per questo tipo di download ovvero sistemi operativi da mac os 12 montray mac os 11 big sur mac os 10 15 catalina e windows 10 windows 11 questa ripete 64 bit only quindi i 32 bit non sono supportati con questa versione di serato ma anche con le altre i processori questi i3 i5 i7 i9 apple m1 md ryzen la risoluzione dello schermo almeno 4 gigabyte di memoria porte disponibili usb 2 e almeno 5 giga nell'hard disk per il pitch and time dj vedete processore intel i5 i7 i9 l'apple m1 md ryzen e per serato video 384 mega un giga e più raccomandato per migliori performance qui tutte le altre cose che vi possono interessare andatele a spulciare bene fatemi sapere come la pensate nei commenti come detto corsi per dj corsi di produzione musicale contattatemi nel sito corsi dj producer punto com per chi è interessato solo per chi è interessato corsi lezioni e consulenze potete fare tutto online ovviamente con il sottoscritto tramite facebook e instagram potete contattarmi anche lì mi raccomando privatamente solo per chi vuol fare corsi lezioni e consulenze potete seguirci su instagram e anche su telegram la nostra community gratuita con notifiche silenziose e chat interna il nostro canale youtube se vuoi puoi iscriverti o abbonarti così da darci una mano e avere una corsia preferenziale vatti a vedere il video tutto ciò che può interessarti per avere questa corsia preferenziale è un sacco di vantaggi oltre ad aiutare il tuo canale preferito se vuoi puoi attivare la campanella e mettere un like se vuoi essere informato tempestivamente o se ti fa piacere solo dirlo ai tuoi amici o ai tuoi colleghi ma puoi anche aiutarci sostenendo l'S4DJ tramite il tasto sostieni SOS4DJ se pensi che tutti questi contenuti siano d'aiuto per te e per tutti gli altri faccelo capire con un caffè ho tutto ciò che ti fa piacere bene ci siamo anche con la XDJRX3 possessori di Pioneer DJ e questa bella macchina una delle ultime uscite una bella bomba per la Pioneer DJ adesso che funziona anche con serato DJ fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti se va bene se siete contenti che cosa volevate di più o di meno e che cosa vi aspettate nel futuro da parte di SOS4DJ e Claude vi ringrazio per l'ascolto una meravigliosa giornata a tutti ricordandovi l'iscrizione al canale se vuoi puoi farlo per aiutarci ma anche per aiutare te stesso a essere sempre al centro di tutto ciò che ti interessa ovviamente gratis ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio grazie a tutti